Allora, siamo live, attenzione, vediamo se si vede, direi. Benvenuti a tutti innanzitutto e grazie a tutti voi che siete venuti qui al freddo, alla nebbia, mentre voi a casa siete al caldo, ma grazie allo stesso per esservi collegati. Benvenuti a Caste Software. Per chi non ci conosce, noi siamo una community milanese che ha come claim Tech Culture People, perché sono i nostri tre valori fondanti, tecnologia, cultura e persone. Sono le cose di cui noi parliamo e stasera, nello specifico, parleremo di qualche cosa che è più relativo a Culture People, un po' meno a Tech, giusto? E per chi è qua, ma soprattutto per chi è a casa, noi stiamo facendo live streaming da Localhost, che è la sede di Craft & Software. Localhost vuole essere la casa delle community innanzitutto, quindi se siete delle community, se siete delle persone che volete fare degli speech a carattere tecnico, tecnologico, ma non solo, questo è il luogo adatto per voi, e noi questo lo chiamiamo anche ufficio condiviso, perché abbiamo un po' di postazioni per i nostri soci fondamentalmente, ma non solo. Quando vogliono venire a fare delle giornate di lavoro tranquillo, o anche più di qualche giornata, possono venire e trovare un ambiente consono al lavoro. Allora, se ci volete supportare, questo è un modo, uno dei tanti, il QR code di Satisfay, per gli altri potete scriverci a infocraft.org. Per chi è qui, il modo diretto per supportarci è, se volete acquistare una birretta con delle patatine, su all'ingresso c'è quello stand con tutto esposto, insomma, garantisco che la temperatura è fredda delle bibiche, perché con due gradi. Diamo il benvenuto stasera a Giorgio Boa, full stack developer a Flowing, grazie per essere qui per esserti proposto, ma soprattutto anche grazie a Gerson che l'ha trovato, diciamo. E stasera ci parlerai di effective remote working, quindi conosceremo il modo di Flowing e di applicare il lavoro da remoto, cosa molto attuale anche ora, a due anni, diciamo, di distanza dall'inizio dell'adozione generale di questa modalità di lavoro. Con questa slide vi chiedo che se volete contribuire attraverso degli speech, dei workshop, o comunque dell'attività che volete fare attraverso Craft & Software, qui c'è la mail di riferimento, info-craft-software.org. Come avete capito, è un po' la mail per tutti, buona per tutti. Seguiteci sui nostri social, LinkedIn, YouTube, Twitch, Facebook e Instagram. Un ringraziamento, prima di iniziare, ai crafters, alla community, che senza di loro tutto questo non sarebbe possibile, il noleggio di questo spazio, la ricerca di speaker, l'organizzazione del meetup, e voglio ringraziare ancora Gerson per tutto il lavoro che sta facendo. E l'ultima cosa, prima di lasciarvi, se volete diventare soci dell'associazione, quindi fare parte in maniera più attiva all'organizzazione delle nostre attività, ma anche a decisioni più strategiche volendo, scriveteci a socicraft-software.org. Niente, ho finito, godetevi la serata e ci risentiamo dopo. Vi ringrazio. Allora, benvenuti a tutti. È un piacere essere qui di persona, quest'oggi. Vi ringrazio di avermi dato la possibilità di parlare di Effective Remote Working. Io sono Boa Giorgio, sono un T-Shape Developer at Flowing. Potete trovarmi su Twitter, il mio handle è atgiorgio__boa, quindi se avete dei feedback o domande da farmi, in questo talk o anche su altre cose che io posto giornalmente, potete contattarmi liberamente. Volevo un attimo partire dall'idea di questo talk. L'idea nasce perché molti di noi si sono scontrati con il lavoro remoto, vuoi per la pandemia, vuoi per altre situazioni, si sono scontrati con questo modo di lavorare e hanno associato a questo modo appunto di vivere le giornate una sensazione negativa. Questo appunto dà l'idea a questo talk per condividere la cultura di Flowing e come Flowing, l'azienda dove lavoro, vede il lavoro remoto, essendo full remote. Un'azienda è fatta di persone, quindi volevo iniziare proprio da questo punto il mio talk. Il rapporto di lavoro in Flowing si basa sulla fiducia, quindi piuttosto che andare a controllare le persone giornalmente per vedere se stanno lavorando otto ore su otto oppure controllare se il pc è aperto o quant'altro, fortunatamente il nostro lavoro è misurabile. Cioè noi poniamo dei task da eseguire in settimana, chiaro che se al termine della settimana questi task non sono stati fatti, è chiaro che qualcosa è nato storto o non ci siamo capiti con il committente dei task oppure abbiamo fatto altro. Ecco che in Flowing la fiducia fa la padrone e quindi succede di poter vedere delle situazioni di questo tipo. Praticamente la fiducia è alla base di tutti, questo è il nostro canale Slack dove giornalmente chi ha degli impegni o delle commissioni da fare ha la possibilità di prendersi il proprio tempo per uscire, fare la commissione e poi rientrare. Questo ovviamente serve per avvisare il team e anche le altre persone che non ci sono disponibili a rispondere a Slack o comunque a impegni lavorativi. Ovviamente per uscire bisogna controllare il calendario quindi ci siano meeting schedulati o quant'altro, però insomma questa è la buona norma. Il remote working non è adatto a tutti, quindi già in fase di recruitment noi abbiamo un team che è molto bravo per andare a valutare se la persona è predisposta a questo tipo di lavoro. Quindi innanzitutto c'è una condivisione della cultura aziendale, quindi fin da subito dalle prime chiamate si va a disporre flowing con la sua cultura e capiamo dall'altra parte se la persona di fatto piace la cultura che flowing sta apportando e tutto si basa su allineamento e trasparenza. Fatting Chrome è tutto trasparente, dalla più singola minima cosa alla più importante, quindi anche fatturato e quant'altro, è tutto condiviso. Le soft skills sono molto importanti, quindi vengono valutate anche quel tipo di skills perché la comunicazione non verbale, ovviamente essendo da remoto, manca e quindi le soft skills sono veramente importanti per lavorare in full remote. In flowing abbiamo dei senior, ma non solo, abbiamo iniziato ad assumere anche mid barra junior e questo diciamo cozza un po' con l'idea di full remote che solitamente si pensa che uno junior da remoto si vada a perdere e non riesce a portare a termine i propri task e quant'altro, invece noi abbiamo impostato una serie di percorsi per questi mid e junior per poter far crescere giorno dopo giorno e arrivare a fare il lavoro che farà il buon consiglio. Passiamo all'onboarding. L'onboarding in flowing, ovviamente essendo da remoto è un momento importante, cioè la persona arriva in azienda e il primo giorno che si presenta si trova un po' sbagliato. Figuriamoci in remoto la situazione può essere ancora più aggravata. Quindi viene dedicato un tutor che lo seguirà in questo primo periodo, lo seguirà nell'escorre e fargli imparare il metodo di flowing che noi internamente chiamiamo Outflow. Ovviamente insegniamo a comunicare da remoto perché non essendoci la comunicazione non verbale bisogna essere più impatici, bisogna far risaltare meglio le proprie idee, bisogna farci soprattutto capire dagli altri. La nostra cultura aziendale, come detto in precedenza, è tutta documentata, quindi abbiamo una camba, un trello, dove lì all'interno ci sono tutti i task e carte dedicate all'onboarding. Quindi il nuovo arrivato può andare in questa camba nel leggerci tutti i task, avrà accesso a tutti i documenti che lo vanno a formare su metodologie e libri che ispirano la nostra cultura aziendale. Quindi troverà dei link riguardanti il TDD, riguardanti l'Agile e via dicendo. Fin dal primo giorno, tutti quanti possono proporre dei nuovi idee. Quindi non è che sei arrivato da poche ore in azienda, tu sia limitato nell'esporre quello che ti passa per la testa o comunque quello che magari la persona esterna che non è entrata nel flow da tempo magari vede con occhi diversi. Tutti hanno la possibilità di esporre le proprie idee. Formazione interna è molto importante. Essendo un'azienda di servizi, la condivisione delle conoscenze è molto di valore e i team condividono a scadenza mensile le loro competenze, i loro goal all'interno dei team e anche il pain che hanno avuto, quindi le problematiche che hanno avuto e come sono riusciti a risolvere. Questo dà avvito a momenti di confronto che danno abitudine al dibattito. Quindi riuscendo ad avere una serie di persone che dibattono su un argomento, si riesce anche ad allenare le soft skill che sono quelle di proporre le proprie idee e farsi capire. Questo è molto utile perché confrontandoci con clienti questa soft skill di dibattito è molto importante. Passiamo al software e l'hardware. Ovviamente per lavorare in remoto abbiamo bisogno del software dedicato e hardware che l'azienda mette a disposizione. I nostri strumenti principali, questi sono solo alcuni, non sono tantissimi, abbiamo Slack come strumento principale dove passano tutte le nostre comunicazioni e diciamo che Slack è un po' come se fossimo in ufficio quando andiamo a battere il collega sulla spalla per chiedergli un'informazione. Quindi diciamo al modo più diretto per appingare un collega. Chiaro che se c'è un problema grosso si va di chiamata Slack. Però è molto rara come cosa. Tutto il resto è in Google Suite, quindi l'email, il calendar, il drive con tutta la documentazione che avevamo detto in precedenza e i vari meet sono incentrati sulla Google Suite. Per quanto riguarda Trello, invece, è uno strumento che ci permette di discutere le nostre tematiche all'interno dei vari riti che poi vedremo nelle successive slide. Quindi Trello completa i nostri riti con una camba dove andiamo ad inserire varie informazioni che andremo poi a discutere. Questo è un canale che abbiamo all'interno di Slack che ci permette anche di passare la parte goliartica della giornata. C'è un bot che in automatico raccoglie degli avvenimenti interni all'azienda e in maniera randomica arriva poi a sparare sui nostri canali e quindi poi siamo notificati di questo nuovo messaggio ed è un modo anche per vivere un po' un semi-ufficio anche da remoto. Per quanto riguarda la postazione di lavoro l'azienda dà un budget annuale per l'hardware e la formazione. Formazione si intende workshop, libri, task di questo tipo, insomma. Per quanto riguarda il budget l'azienda non va a comprare quindi non va a spedire alla persona una serie di di hardware tipo monitor, tastiera e quant'altro ma lascia libertà al singolo dipendente di spendere il proprio hardware come meglio crede. Questo perché se comprasse monitor per tutti sicuramente sarebbe uno strepo perché magari a non tutti serve un monitor di quel tipo e quindi dando la libertà alla persona di poter spendere il proprio budget sicuramente è un modo più ideale di vedere la possibilità di acquistare hardware. Anche qui tutto è documentato e visibile. Cioè se un altro collega va a spendere dico io 250 euro per il monitor questo è tracciato all'interno di un exile exile che è disponibile a tutti. che cosa mi dà come vantaggio? Mi dà il vantaggio che se io vado in questo excel e vedo che un altro collega ha comprato un monitor stesso devo comprare un nuovo monitor magari lo vado a sentire chiedo se il monitor è valido se ha trovato dei difetti e quant'altro e quindi avendo questo tipo di trasparenza ho possibilità anche di tranneggioamento. Ovviamente l'azienda crede molto nell'ambiente comportevole quindi tutte quelle regole che in un normale ufficio ci sono quindi luci sedie e quant'altro sono ovviamente rispettate. Essendo che lavoriamo in remoto la possibilità di lavorare ovunque è sempre possibile però dobbiamo fare attenzione un po' agli impegni presi cioè se io voglio andare a lavorare in remoto lo posso fare perché sono un remote worker quindi non ho necessità di essere a casa posso lavorare ovunque chiaro che bisogna un attimo fare attenzione al calendario perché ci sono dei meeting già pianificati voglio lavorare dal mare potrebbe esserci un disturbo di fondo sotto che potrebbe un po' amminare la comunicazione quindi noi prendiamo la nostra possibilità di lavorare emotamente sempre facendo attenzione a eventuali meeting e eventuali altre cose pianificate un punto che volevo su cui volevo portare l'attenzione è che noi sì siamo remoti quindi possiamo lavorare ovunque possiamo anche magari qualche volta sentire il pain di non essere in un ufficio assieme ad altri colleghi e scattare e vivere assieme però c'è sempre la possibilità di trovarsi assieme finito il lavoro quindi si può sempre mettere d'accordo per trovarsi come in questo caso a mangiare un hamburger e parlare di lavoro e scattare e condividere le nostre passioni il terzo punto è la cultura la cultura che l'azienda prova a passare ai vari dipendenti la cultura che comanda il modo di lavorare in remoto aziendalmente vogliamo creare una community una community un gruppo di persone che remano tutte nella stessa direzione qui ho riportato alcuni riti aziendali che ci permettono di creare un senso di appartenenza all'interno dell'azienda l'azienda è di tipo open governance cioè ogni persona che è presente all'azienda in azienda può dire la sua infatti lunedì è dedicato a questi riti solitamente c'è il rito di governo dove di fatto decidiamo la roadmap aziendale quindi se ci sono nuove idee che noi vogliamo proporre andiamo a proporre in questo evento ad esempio una delle ultime cose che è stata proposta è la pausa caffè prima era stato inserito solo un bot Slack che chiamava la pausa caffè per ritrovarsi tutti assieme si era visto che questo tipo di approccio non era molto produttivo non tutti partecipavano allora si è pensato di aggiungere della gamification in questa pausa caffè e devo dire che nelle ultime settimane questa è un'idea che è partita da poco l'afflusso è migliorato e si evita anche di parlare di lavoro perché poi di fatto si va a giocare a un giochino stupido niente di più però si cerca di staccare la spina tutti assieme e condividere delle emozioni aziendali come se fossimo di fatto davanti alla macchinetta del caffè altro rito interessante è il rito di planning dove si condivide la fatturazione i progetti in ingresso e anche se ci sono nuove persone che devono entrare a far parte dell'azienda quindi in questo rito noi vediamo i nuovi progetti in ingresso e se c'è qualche collega qualche server come ci piace chiamarci fra di noi sono interessati a far parte di quel progetto perché le piacce particolarmente come hard skill quindi le tecnologie utilizzate sono appetibili si fa avanti e dice io ho due giornate da poter spendere all'interno di questo progetto sempre in questo rito se una persona ha terminato un progetto e quindi è libero per poterne prendere degli altri inserisce una card ed evidenza in maniera planteale in un rito dove è presente tutta l'azienda che ha queste due giornate da poter spendere su nuovi progetti questo darà poi anche evidenza a livello commerciale di spingere su determinate soluzioni o meno abbiamo istituito anche un book club dove settimanalmente ci troviamo per discutere alcuni capitoli di un libro quindi assieme cerchiamo di leggere un libro in questo caso ultimamente stiamo leggendo un libro sul pdp e capitolo dopo capitolo noi lo andiamo a discutere e cerchiamo di portare fuori un po' i concetti che abbiamo capito e alcune idee per poter migliorare anche internamente come team altra cosa interessante è il metodo di lavoro solitamente abbiamo interazioni molto brevi cioè una o due settimane queste interazioni brevi ci permettono di avere un feedback velocissimo da parte del cliente perché ogni settimana lui vede come evolviamo l'applicazione i task che lui ci ha chiesto di fare questo permette di tenere le call molto proficue e pianificate cioè noi ogni settimana pianifichiamo le varie call con il cliente quindi il nostro comitente e avendo le interazioni di una sola settimana riusciamo a avere call proficue perché appunto si va a discutere solamente una settimana pensiamo se dovessimo discutere di un mese magari in team da quattro persone è chiaro che il tempo impiegato quindi l'investimento del tempo sarebbe molto maggiore rispetto a quello che si ha con interazioni molto brevi feedback veloci tutto ciò che vi ho raccontato è presente nel playbook aziendale che si trova a quel link mentre in quest'altro link si vede appunto un libro è stato fatto un libro che si chiama Passport to Onboarding e spiega come ci si muove nell'operatività di tutti i giorni quindi tramite il link si avrà accesso al link pub dove è disponibile questo libro ed è gratuito quindi viene dato poi anche ai nuovi arrivati per poter iniziare ad essere operativi qui in assoluto nel playbook non è stato ancora annunciato però ci sono due spoiler che voglio portare quest'oggi a voi il primo sono i flowy coin è una nuova idea che abbiamo portato aziendalmente ed è un strumento che ci permette di ringraziarci tra colleghi quindi è un po' come la patta sulla spalla che si trarbe in ufficio un collega mi ha aiutato per una query che era particolarmente lenta io gli dono un flowy coin uno o più perché ne abbiamo diversi e il nome di chi ringrazia e di chi ha ricevuto questa valuta virtuale creano una transazione l'insieme di tutte le transazioni ogni quattro mesi viene estratta una transazione a sorte che riceve un premio quindi ogni quattro mesi tutte le persone che ci sono ringraziate sono segnate in una transazione viene estratta a sorte una di queste e viene premiato perché dico ogni quattro mesi perché noi ogni quattro mesi ci troviamo con tutta l'azienda per andare a discutere del futuro di drawing del maturato e quant'altro quindi poi eseguiamo anche delle attività che a parte in building due di queste sono virtuali mentre una è siamo fisicamente presenti tutti altro spoiler è il mentorship quindi sono una serie di incontri one to one che vengono dedicati sia ai mid junior oppure senior dove un mentor su un certo argomento passa da riconoscente dei link o comunque sprona il mentee che sarebbe l'alunno a migliorarsi su determinati argomenti quindi io so che voglio migliorare nella creazione dei workshop e c'è un mentor che è capace di eseguire in maniera molto efficace si mette a disposizione spiegati come potervi fare io metto l'accordo con lui segno anche qua tutto documentato su un excel che sono un suo allievo e poi verranno schedulati degli incontri one to one per farmi migliorare su quella skill in particolare qui è una cosa che ancora deve uscire ma è un'idea che sta già prendendo piede poi verrà un salto anche nel playbook ti volevo lasciare con questa frage aprire le braccia al cambiamento ma non lasciare andare i tuoi valori questo secondo me rispecchia parecchio flowing perché con i valori sempre ben fissi siamo molto aperti al cambiamento per migliorare giorno dopo giorno siamo un'azienda full remote come abbiamo detto e tramite questo link ci sarà una mail sarà creata una mail con un destinatario precompilato per mettervi in contatto con noi in questo vi ringrazio spero che ci sia piaciuto che abbia dato alcuni spunti per essere migliori migliorare nel remote working o comunque nel video perché so che tanti magari adesso che c'è stato che diciamo speriamo ci sia passato questo periodo di pandemia stanno adottando e cominciando a fare un approccio di grido ok adesso ci sono la parte le domande perfetto ok che è una domanda che secondo me è una delle più interessanti ho capitato veramente tantissimi momenti però ovviamente i momenti non vuol dire cioè gli altri poi lavorano cose diverse non di gruppi comunque lavorate in ragionati progetti come fate a essere sicuri che tutti siano ragionati su che cosa stanno facendo gli altri non nel dettaglio perché l'idea magari capitano due clienti diversi due clienti diversi che fanno la stessa cosa magari ognuno diventa la nuota come siete sicuri che c'è questo cambio sufficiente questa la so allora si ripeto la domanda per chi ci segue da casa mi chiede com'è fate per condividere tecnologie e problemi che avete affrontato durante i vari progetti per far sì che se un altro team ha lo stesso problema eviti di reinventare la ruota e di trovarsi magari a perdere o investire una settimana per un determinato problema che se ci fosse stato questo passaggio di conoscente in poco tempo si sarebbe risolto allora qui non l'ho segnato nelle varie slide però abbiamo un bot Slack che ci ricorda settimanalmente di andare a compilare un Excel nel momento abbiamo inserito in Excel per vedere se l'idea funziona un Excel che se ci fa segnare tra ogni team se ci sono delle cose che abbiamo riscontrato quali sono i problemi che abbiamo superato nella nostra settimana quindi ne butto una a casa abbiamo fatto un'applicazione Next che doveva autenticarsi con Cognito e AWS noi diciamo che abbiamo affrontato questo problema e che il repository dove trovare le risposte o comunque le persone che possono dare aiuto sono queste e queste altre quindi se si trova in fronte a un problema che non si riesce a risolvere una nuova tecnologia bisogna affrontare si guarda questo Excel e si vede se effettivamente c'è qualcuno che ha competenze tali in azienda oppure capita anche che su un determinato problema ci sia un team che è un attimo bloccato allora nel canale generale di team development viene lanciato un messaggio ragazzi chi ha un pomodoro da dedicarmi perché non riesco ad autenticarmi con sempre diciamo sempre AWS allora chi ha tempo a disposizione ovviamente e possibilità di una mano anche conoscenze ovviamente dunque mi è capitato di parlare poco tempo fa con una persona che si occupa di psicologia del lavoro e lei sostiene fortemente che quello che viene adottato in questo momento in Italia non si possa tanto dire smart working quanto telelavoro mi sembra che nel modello che tu hai espresso ci siano diversi passi avanti rispetto a questo facendo il confronto con la realtà nella quale lavoro io la quale direi in questo momento anche se per breve tempo è telelavoro secondo te quanto è esternalizzabile in Italia un modello come quello di tu e soprattutto quanto tempo ci potrebbe volere all'interno di un'azienda per implementare un sistema di lavoro di questo tipo allora ripeto la domanda quanto tempo ci vorrebbe a un'azienda per andare ad applicare un modello di questo tipo adesso se adesso sta facendo un telelavoro smart working si si rispetto a come era situazioni ma anche per i fattori come la psicologia il lavoratore in Italia allora è una bellissima domanda non a caso io sono partito dal discorso fiducia perché il telelavoro essere presenti 9-18 o comunque orari d'ufficio essere presenti e come si dice obbligare non dico obbligare ma quasi una persona ad essere sempre presente in quegli orari è una cosa da superare inizialmente io ho lavorato in aziende dove durante la pandemia o comunque quando si poteva iniziare a tornare in ufficio hanno battuto i punti per tornare a battere dalla stiera e questo rumore di tasti che si muovevano rendevano i livelli alti più felici rispetto a pensarci da casa anche se abbiamo dimostrato che da casa eravamo più produttivi quindi è un cambiamento che non è assolutamente semplice deve partire da distante flowing fortunatamente aveva iniziato questo processo prima che ci fosse la pandemia quindi era già pronta come mentalità forse la pandemia ha un po' accelerato la chiusura delle sedi che erano già previste però si stava già muovendo verso questo tipo di lavoro l'ibrido con un po' di sviluppatori a casa con un po' di sviluppatori in ufficio secondo me è meno potente del remote working perché secondo me alcune dinamiche che si possono creare in ufficio rispetto a il dipendente che è a casa potrebbero creare dei conflitti o comunque dei disannigliamenti se un po' di persone sono in ufficio davanti alla macchinetta del caffè decidono di andare a implementare la soluzione in un certo tipo chiaro che quello che è a casa che ha deciso di lavorare da remoto queste cose magari si perde quindi anche qui se si vuole fare un approccio ibrido bisogna pianificare bene le cose magari se si fa una call dove c'è un po' di persone in sede un po' di persone fuori magari connettersi tutti quanti su Meet o su Zoom o sullo strumento che utilizzate in modo da essere che tutti quanti li vedete non che solo quelli in ufficio si vedono negli occhi e gli altri della casa invece no sì è un po' complicato sicuramente dovrà partire dai piani alti ed è una rivoluzione che comunque secondo me step by step bisogna affrontare subito e sbocca il problema è che quando si posteva una cosa è una di quelle cose che poi ovviamente è una cosa che hai detto aiuta l'ha detto non so come dire non l'hai detto esplicitamente però se è un'azienda che ha 10.000 persone cioè adottare il cambiamento è al giorno d'ora devi decidere tra due anni tutti sarebbero le volte e poi le volte con buoni e poi lì a piccoli gruppi non so 100-100 decidi di portarli avanti però in quanto non passano i due anni ma è un saluto di casino perché ci sarà chi lavora da calma e chi lavora da presenza e questo è proprio il genere che è più grande di partire quasi direttamente dalla calma sì qua effettivamente è all'ennesima potenza nel senso che se io per i miei non so delle commissioni da fare voglio iniziare alle 11 e magari le ore che non ho fatto quel giorno le vado a recuperare un altro giorno lo posso fare lì invece con lo smart working mi falto o chiedo un permesso o se no devo essere presente alle 9 o comunque quando inizia il lavoro grazie tre ecco parlavi di di lavorare di 9 18 la rivela se c'è la mia edizione è uno dei detti che vorresti avere le ore in cui tutti lavorano anche solo poche ore al giorno per quello che chiamato working hours nel modo che se bisogna fare una comunicazione diretta a un meeting che ci sono più o meno tutti in quella fascia di oraria che può essere 2, 4, 6 ore al giorno ma in quelle in quella fascia lì ci sono tutti è una cosa che voi fate è una cosa che voi state pensando o meno e poi ho la domanda quindi ripeto se c'è bisogno di dare delle comunicazioni dirette se pensiamo ad avere delle ore delicate in cui tutti siamo presenti al data tanto mi piacerebbe capire che tipo di comunicazioni dirette sono necessarie in quella fascia tutti in quella fascia lì ok perché schedulate il meeting subito oggi per oggi giusto? no però se lo vedo libero in quella fascia lì posso conoscarlo ok questa è una domanda che mi apre un altro discorso nel senso che se io prevedo che domani avrò bisogno di due ore per andare da dentista segno a calendare che sono occupato non serve che segni perché sono occupato ma segno che sono occupato così facendo un altro mio collega quando vede il mio calendario vede che sono occupato non mi andrà a mettere il meeting proprio in quel momento magari sceglierà una fascia pomediana quindi questo è un primo una prima cosa che noi adottiamo per esplicitare a tutta l'azienda che siamo occupati effettivamente anche su Slack è possibile impostare come status magari uno mette sono occupato fino alle ore 10 vicino al nome c'è scritto lo status e uno vede che è occupato quindi non può non può andare può scriverli ma sa che prima delle 10 e lui non risponde comunicazioni dirette non è mai capitato che comunicazioni dall'oggi al domani dovessero essere effettuate capita magari di schedulare un meeting perché c'è una problematica è chiaro che se la persona però non è disponibile purirà il resto del film non so se hai risposto alla domanda sì sì più o meno più o meno sì invece su il fatto di lavorare da casa diventa abbastanza alienante può essere un piacere quindi sono tutti in tendenza andando verso il pagare magari un'attività del co-working eccetera voi da quello che avviene siete tutti in remoto da casa c'è una parte che sta andando verso il co-working si allora restrizioni permettendo l'azienda è fuller molto comunque garantisce una se io domani voglio andare a lavorare in co-working avviso l'amministrazione o chi per loro e poi mi verrà coperta la spesa del co-working se forse io possa lavorare da quel luogo quindi per quanto riguarda i co-working abbiamo un budget poi varia solitamente i prezzi variano anche da città a città comunque un budget riservato privato di working questo può aiutare la problematica che dicevi tu di sentirsi affinato viene utilizzato viene utilizzato restrizioni per me in un periodo un po' particolare però viene utilizzato voi vi trovavate a 3d non? si spesso io e altri due colleghi ci troviamo in centro nella mia città e quindi facciamo la mattina lavoriamo veniamo a pranzo insieme e il pomeriggio si continua a lavorare anche qui dicevo appunto come dicevo prima il co-working se io ad esempio scelgo un bar particolarmente rumoroso e so che sarà una giornata di cosa magari evito quella giornata di trovarmi insieme agli altri colleghi cercherò una giornata dove ho solamente dei task di sviluppo da fare che magari non perché la rumorosità del bar potrebbe creare fastidio eventualmente voler contatto ci sono delle domande dall'invito posso far che le posso riportare vai allora la prima è parti per programming se sì come ok sì allora la domanda è se facciamo per programming allora le parti più importanti dei progetti solitamente nelle parti di dominio più importanti facciamo per programming e tramite Slack solitamente o anche Meet condividiamo lo schermo e poi discutiamo assieme la soluzione da prendere per sicuramente questo tipo di di pratica allinea anche tutto il team ma non so sono due sviluppatori back end che devono sviluppare la soluzione sviluppando in per programming le parti core del dominio questo è in qualche modo un passaggio di conoscente all'interno del team lo facciamo facciamo anche tanto di 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 soprattutto sulle parti core dei vari progetti un'altra domanda che arriva sempre dal gruppo Luca ti chiede come è stato passare da un'azienda in un ufficio ad un'azienda in un ufficio ok come è stato il passaggio da un'azienda in un ufficio ad un remoto allora aver trovato una persona che mi ha fatto da tutto e fin da subito è stato positivo mi è capitato in aziende in ufficio che quasi in un boarding non veniva fatto nel senso che nel giro di una settimana si pensava subito ad essere produttivi a creare codice e sviluppare qui invece è tutto documentato questo a mia volta sto facendo da tutto là un nuovo arrivato e una delle prime cose che mi sono state dette è che avere tutto documentato qualsiasi domanda che uno si può porre da trova documentata all'interno del drive è qualcosa di importantissimo quindi devo dire ben organizzati non pensavo così e il non boarding è stato positivo per entrare all'interno dell'azienda chiaro che indubbiamente non trovare il collega con cui fare la battuta o il collega a fianco per poter magari condividere qualcosa che si è trovato in internet o fare una battuta un po' manca però comunque ci sono tutta una serie di pratiche che limitano questo fastidio ci sono un'ultima ok Gianluca ti chiede ma per acquisto hardware si intende che l'haptop va comprato o viene fornito un metto per lavorare ok allora no praticamente l'azienda fornisce l'haptop fornisce anche delle cuffie e dell'altro hardware di report dopo di che tutto ciò che è extra quindi mouse tastiera monitor casse se uno vuole una webcam aggiuntiva eventuali luci per illuminare l'azienda l'ufficio quindi la postazione di lavoro di fatto sono possibili sfruttare il budget hardware allora sì c'è scusa l'ultimissima sempre l'ultima è un tema secondo me sebbene è un po' di tempo che stiamo lavorando dalle bots non è un tema a caso e poi e poi perché insomma è un tema che è praticamente l'ultimale possibile va bene Luca fa la considerazione che mi manda dice una settimana di chiarazione nella mia esperienza non c'è tempo per lavorare è troppo breve considerate che sono citture demorativi e che una giornata va via in cerimone ok secondo te come la vedi allora quindi si dice perché viene una settimana troppo poco per deliberare un qualcosa di interessante e che parte della giornata va via in cerimone allora noi pianifichiamo i nostri i nostri task settimana dopo settimana si cerca di tagliare i task quanto più piccoli possibili e poter alla fine della settimana comunque sempre presentare un progetto al cliente al comitente funzionante quindi si cerca di procedere a piccoli passi e a livello delle cerimonie solitamente si cerca di tenere lo stand up quanto più stringato possibile perché ovviamente impegnare tutto il team per un'ora ogni mattina è chiaro che come si diceva nella domanda le cerimonie incominciano quasi a superare il tempo di codice quindi si cerca sempre di timeboxare le varie le varie riunioni solitamente c'è una persona nel team che si prende carico di questo e fa un po' tiene un po' il tempo delle varie riunioni per far sì di essere produttivi ed evitare di spendere tutta la settimana in riunioni varie chiaro che essendo da remoto la facilità di entrare nelle varie call è più immediata siamo davanti a casa siamo davanti allo schermo la puntualità è una cosa da tenere sempre molto in considerazione lavorando da remoto e tutto qua nel tempo ne arriva un'altra di Daniel dice quante persone si chiedono secondo te hanno un po' che ha avuto la qualità di diminuzione agendale ok allora è una domanda che ci siamo posti spesso e anche ultimamente nei vari riti che decidono la loro domanda agendale e ci siamo detti che al momento i nostri riti se mai dovessimo crescere 100 superare i 100 dipendenti così com'è non potrebbe scalare ma siamo stati a mio avviso molto intelligenti nel dire che al momento il problema non c'è ci porremo la problematica quando arriveremo a dei numeri che necessitano o vicino a certi numeri che necessitano un cambiamento di approccio quindi arriverà pian piano in automatico probabilmente qualcuno ci penserà e dirà ma perché non possiamo fare così che secondo me ci svellisce un po' e non dobbiamo essere tutti presenti a questi riti che alla fine è un investimento di tempo e quindi poi si evolverà come scritto anche nell'ultima slide in maniera automatica giorno dopo giorno va bene non ci sono altre domande quindi grazie mille grazie a voi io posso guardare qualche minuto in realtà proprio due minuti aspetta che ti prendo ecco va bene non importa scusi giusto giusto qualche annuncio per allinearvi sui prossimi eventi e qualche informazione su craft e software e localhost abbiamo già programmato tre meetup per febbraio il 3 per la community di electi jss ci sarà fabio biondi e con un talk che in realtà probabilmente è qualcosa anche di abbastanza di pratico creare un piccolo e-commerce con redax toolkit e rtk query non sarà in streaming sul nostro canale quindi per vederlo bisognerà venire qui venire qua in presenza il 10 invece per craft e software avremo Dario Chiappetta che è una mia ex collega di Docebo e ci parlerà di Intent un framework moderno per applicazioni vocali questo me l'ho già raccontato e ho anticipato sarà molto interessante soprattutto perché lui è riuscito a declinarlo in qualche cosa di molto concreto che vi racconterà qualcosa che mi auguro per lui abbia una buona espansione e il 15 sempre per react.js avremo Gabriele Lana che spero che molti di voi conosceranno perché è un artigiano del software molto attivo nelle community di Milano il suo talk che sarà FitzBuds a compile time con TypeScript a questo io non manco perché TypeScript mi sono abbastanza innamorato vi ricordo ancora che se volete contribuire questa è la mail di riferimento talk speech workshop interviste e sono sempre ben accette e benvenute qui a Crafty Software se volete diventare invece soci e essere parte attiva dell'associazione soci chiocciolacraftesoftware.org avrete tutte le informazioni necessarie ancora per contribuire invece dal punto di vista pecuniario il QR code di Satispay oppure per le altre modalità info chiocciolacraftesoftware.org grazie a tutti per essere stati qui se voi volete rimanere ancora qualche minuto magari ci beviamo una birretta di sopra e chiacchieriamo e per le altre invece ci vediamo settimana prossima grazie mille grazie a tutti